L'Assemblea del Lato Bacchiglione ha dato il semaforo verde a un impegno per il prossimo triennio, 21-23, della nostra società. Un impegno importante, complessivamente 152 milioni di investimenti, quattro grandi aree, operiamo anzitutto con un investimento di 40 milioni circa per sostituire tubature, per migliorare l'efficienza della rete acquedottistica, per ridurre le perdite. Altra grande area su cui investiamo, 30 milioni di investimento, l'interconnessione tra le nostre reti, per non dover soffrire in caso di emergenze, in caso di inquinamenti, perché comunque il servizio sia garantito. La parte più importante degli investimenti però riguarda, con 60 milioni di investimento in questo triennio, l'efficientamento del nostro servizio di depurazione. Cosa vuol dire? Restituiremo ai fiumi un'acqua molto diversa da quella che in questo momento i nostri depuratori riescono a fare, cioè un impatto sull'ambiente, un impatto sui nostri corsi d'acqua notevolissimo. Qui, direi, è il cuore di quello che fa il servizio di via acqua, migliorare l'ambiente. Inoltre 22 milioni saranno investiti nell'efficientamento della rete fognaria, estensione di rete, sostituzione e separazione di rete fognaria, per far sì che sempre più cittadini siano collegati al nostro sistema depurativo. Mi piace sottolineare alcuni interventi in particolare, perché sono significativi per l'importo e significativi sull'impatto. In città di Vicenza abbiamo iniziato i lavori per la sostituzione dell'adduttrice che dal Moracchino entra. È la più antica, si può dire antica perché supera i cento anni la rete su cui andiamo a intervenire, che porta dentro l'acqua dalla zona Moracchino, nord di Vicenza, anzi in comune Caldogno, porta dentro l'acqua attraverso Corso Fogazzaro in tutto il centro storico. E lì saranno investiti quest'anno, tra l'altro, oltre 6 milioni. Altro intervento importantissimo riguarda, e stiamo ultimandolo, era iniziato nel 2020, nel 2021 sarà operativo, la realizzazione del nuovo osservatoio in località Masare, che è nella parte nord di Creazzo, un investimento di 2 milioni e mezzo, e mette in sicurezza tutta l'area dei comuni della Spalla Ovest della città, Creazzo, Sovizzo, Gambuliano, Monteviali, Altavilla, con una garanzia di un approvvigionamento che è continuativo, garantito anche in periodi di difficoltà. Interventi importanti nella separazione dei reti, sempre da sottolineare e da ricordare, direi nel comune di Torri di Quartesolo, ci sarà separazione dei reti fognari sia in località a Marola che nel comune di Torri, un intervento robustissimo, complessivamente oltre 3 milioni di investimenti. Nella Valle dell'Agno, incrociando tra l'altro un intervento che va ad opere emergenziali sul tema dei PFAS per portare acqua a quello che era una volta la produzione di acqua edottistica di Almisano, completamente inquinata, e che adesso è distribuita soltanto attraverso dei filtri che operano giorno e notte e resa potabile, un investimento di oltre 3 milioni di euro per tutta l'asse acqua edottistica, che va a potenziare tutta l'asse acqua edottistica della Valle dell'Agno e poi a implementare l'impianto di Almisano. Suttiene, nella zona della Valle dell'Astico, ci sarà un altro intervento strategico nell'area acqua edottistica e cioè ci sarà il raddoppio del consortile che parte da Darsiero, da dentro la valle e porta l'acqua eccellente a tutto il sistema acqua edottistico del lato vicentino, cosiddetto del Tienese, ma poi c'è un'interconnessione importante che serve a tutto l'alto vicentino compreso il comune di Schio e lì è un intervento che complessivamente è un investimento di 14 milioni di euro, un investimento fondamentale per dare garanzie della qualità e di quantità del servizio acqua edottistico nell'alto vicentino. Nella zona del Basso Leogra invece ci sarà un collegamento importante della rete fognaria tra Malo e Isola per implementare il servizio che viene dato in quel territorio lì. Va ricordato non ultimo il servizio, l'interconnessione con l'acquedotto della Riviera Berica che porterà acqua, sarà la prima acqua che potranno avere i comuni sempre colpiti dal tema dei Pifas, potranno avere acqua che proviene invece da fonte già dall'inizio di qualità garantita, un investimento di oltre 2 milioni per i comuni di Sossano, Campiglia e Agugliaro. Andremo entro il mese di maggio all'aggiudicazione per l'investimento del casale, l'investimento fondamentale riguarda 250 mila abitanti equivalenti, porterà la chiusura di una decina di piccoli depuratori tra cui Sant'Agostino, Costa Bissara, Dueville, Caldogno. Avremo in pratica un sistema depurativo rivoluzionato che darà la garanzia che tutto ciò che viene prodotto nelle case, nelle famiglie di 250 mila abitanti della Grande Vicenza verrà restituito ai fiumi attraverso un sistema completamente innovativo, una grande tecnologia e con impatto ambientale che ridurrà praticamente a nulla ciò che produciamo noi ogni giorno in termini di reflui fognari attraverso questo intervento che complessivamente sarà un intervento che durerà 5 anni e sarà superiore ai 70 milioni di euro e che direi è l'intervento che ci fa sentire anche da un punto di vista tecnologico e anche con una ricaduta sul territorio per l'impatto, la qualità della vita e anche per l'investimento, per il lavoro, per l'attività un impatto notevolissimo. E che tra l'altro soltanto per arrivare a compiere per intero l'iter autorizzativo di questa opera vuol dire lavorare 10 anni, arrivare al bando di gara e la giudicazione vuol dire un altro periodo importante per cui in qualche misura ci sentiamo già vincitori aver raggiunto questo obiettivo. La vittoria totale sarà quando il depuratore di Casale sarà operativo, però credetemi essere arrivati a questo punto, poter dire nel 2021 ci saranno i primi, l'inizio dei lavori per quell'intervento lì è qualcosa che per i cittadini di Vicenza, per i nostri soci, per il Consiglio di Amministrazione non è tutto e direi anche per i tanti dipendenti che hanno contribuito a portare a termine questo risultato è un'immensa soddisfazione. Ecco, credo in sintesi abbiamo ricordato la parte più significativa, interventi più significativi però ricordo che saranno tre anni veramente straordinari perché ci posizionerà come Via Acqua all'interno del piano di investimenti garantito dal regolatore, dal lato Bacchiglione come una delle società che più investe per migliorare l'ambiente e per garantire l'acqua di qualità ai nostri cittadini.